La pace del Signore sia con tutti noi, i miei cari e le ragazze. Vi volevo salutare stamattina prima di andare a lavorare e più che altro per dirvi che la gioia del Signore è dentro il nostro cuore. Durante la notte il Signore ci ha collato, sia nel dormiveglia che nel sonno, è come se eravamo nelle mani del Signore e Lui ci ha collato. Questa è una grande sensazione, chi in questo momento sta intravedendo ciò che ho detto, anche lei o Lui. Ha avuto quel beneficio di Dio. Tra parentesi, mettiamo il messaggio di oggi e il Signore ci benedica. Grazie. 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 Buon venerdì a tutti coloro che accettano. Grazie. 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 Come faccio sempre nel video, a più togliere, ci leggeremo. Come faccio sempre nel video, a più togliere, ci leggeremo. Con questo, miei cari, il messaggio è lanciato. Con questo vi invito a pregare e lodare il Signore. Chinate il capo, se è possibile, e pregate insieme a me. Padre Santo, Dio d'amore, ti amo con tutto il cuore. E grazie per questa notte come tu ci hai aiutato, collato con le tue mani. Come tu ci hai protetto dalle insidie del nemico, dalle discordie, dalle difficoltà, dalle cose oscure. Che ci tenevano legate e adesso siamo state liberate da te. Grazie papà. Grazie Padre Celeste. Dio d'amore. E con questo, Padre, che nel medesimo tempo siamo qui alla tua presenza, insieme con i miei fratelli, sorelle, amici, chiunque, e in questo momento, in comunione, insieme a me, per portare questa comunione a te. Come un pacchetto di profumo suave, atteguerito attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Sì, Signore. Stiamo impacchettando ogni nostro bisogno, ogni nostra preghiera, ogni nostra devozione, ogni nostro amore, ogni nostro cuore a te, attraverso Gesù. Come profumo suave, mio Dio. A te. Gloria a te, Padre. Grazie. Grazie che sicuramente tu accetterai questo nostro pensiero d'amore verso di te, verso tuo figliolo. E grazie, Padre, che tu hai sacrificato il tuo unico figlio per questa gioia. Che oggi siamo qui alla tua presenza. Grazie, papà. Alleluia. Alleluia. Sì, Padre. Grazie. Grazie. Grazie che tu hai accettato questo nostro desiderio. Grazie che tu ci hai liberato da ogni affanno, da ogni difficoltà, da ogni disperazione. grazie a tutti i miei fratelli. Grazie a tutti i miei fratelli e sorelle, amici e anche nemici. Ti ringraziamo, Signore. Grazie a tutti i miei fratelli e 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 a tutti i Gloria a te, Padre. Mia carina, la grazia. Chi non l'ha visto, ieri sera ho fatto un video in diretta. Ed è questo qua. In diretta, Conservazione del Tempio, Preghiere di Salamone, Primo Re, Capitolo 8, Pitello Angelo. Lo potete trovare nel mio profilo. E anche nel Youtube, cliccando qui sotto. Ecco, questo è il video in diretta. Qui sto facendo vedere un po' del mio profilo. Anche perché è giusto che vedete quello che in questi giorni il Signore mi ha messo a cuore di postare in internet, in Facebook. Questi sono tutti i video. questi sono messaggi gestuali per te, per il tuo ingoscio, per la tua mente e per liberarti da ogni difficoltà verso il Signore. perché il Signore è grande e ti vuole pulito, vedete? Ti vuole pulito nell'anima, nel corpo e in tutto. Cliccate il link e anche il video e lo vedete bene. Questi sono altri video che Dio ti libera da tutte le tue malattie. gloria al Signore. Gloria al Signore. Alleluia. Signore grande, miei cari, nella grazia. questo è un altro video in diretta, questo è il mio sito, una pagina del mio sito, cliccando nel link, inserita nel mio sito, che ci sono migliaia di siti, nell'interno. sito, ecco, ecco, c'è il numero di telefono, nella foto, sia nel profilo, sia in ogni cosa per poter inserirvi nel mio Whatsapp, io vi metterò in un gruppo, in Whatsapp, per avere più condivisione, perché sto condividendo in Whatsapp tutto il meglio del succo del Signore, che vuole mostrare, più che altro per questo. Bene, vi abbraccio nell'amore del Signore, il mio profilo è molto vastissimo, non c'ho tempo stamattina a farlo vedere, ma domani c'ho più tempo, vi faccio vedere un po' di tutto. vedete? Ok, chiudo nella pace del Signore con un abbraccio, vedete? Ristringo a me e sentiamo il calore uno con l'altro, quell'amore, quell'affetto in Gesù. A Dio volendo, pace del Signore, con un bacio doppio, che Dio ci benedica. Amen.